Due bauli colmi di oggetti e scintillanti costumi di scena, trasportati da una compagnia affiatata e pronta a dar vita ad una scenografia semplice ma efficace, che si monta e rimonta in poche ore. È questa la formula di Pocket Opera, un'associazione nata nel 2005 che con il progetto Adoperiamoci per l'opera vuole rendere la lirica tascabile e avvicinare un pubblico vasto con spettacoli nel territorio. Madame Butterfly, Rigoletto, Elisir d'Amore e Il Barbiere di Siviglia sono alcune delle rappresentazioni realizzate negli ultimi anni ma il 2018 è la volta della cenerentola di Rossini, un paradigma dell'emancipazione femminile che seppur fedele alla trama e alla partitura originale sarà interpretata in modo innovativo nell'intero comprensorio con un tour di sei date che da Gubbio si estenderanno fino ai comuni di Fossato di Vico e Scheggia Pascelupo. Giovedì 19 luglio si inizia nella frazione di Ponte d'Assi per proseguire venerdì 20 nel Chiostro di San Pietro. Sabato 21 la compagnia si sposterà a Scheggia Pascelupo per tornare il 2 agosto a Torre Calzolari e il 3 agosto al CVA di Semonte per concludere il tour il 4 agosto a Fossato di Vico. Sabato mattina al foyer del Teatro Comunale Ronconi è stata presentata la rappresentazione in cui oltre al gestore e organizzatore di eventi Luca Berrettoni erano presenti il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati, quello di Scheggia Pascelupo Fabio Vergari e l'assessore di Fossato di Vico Lorenzo Polidori per tessere le lodi di una proposta vincente capace di unire comunità, esperienze locali e d'alta qualità. Di rilievo, infatti, le competenze di attori e cantanti, le cui performance sono guidate dalla professionalità e decletticità del regista Primo Antonio Petris. Una proposta culturale importante, originale e innovativa, resa possibile da un perfetto connubio tra pubblico e privato che ha visto la disponibilità dell'amministrazione comunale di Gubbio aggiungersi ad un cospicuo finanziamento economico da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, un legame che rende molto fiero Aldo Sartori, presidente di Pocket Opera e anima del progetto, che durante la conferenza di presentazione ha esposto la speranza di far proseguire iniziative di questo genere, istituendo a Gubbio un centro di produzione sulla lirica tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento.